In più la Juventus diventa decisamente più competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. Grazie a tutti! Da una Portoghese, da una Portoghese! Ma 1-1! Un grande gol ma soprattutto un gol fondamentale per la Juve! Sola di tiro! Eccolo! Con Litos! Deves! Un fuoriclasse! Un giocatore fortissimo! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Carlito Deven! Li ha trascinati tutti! Carlito! Cardiento, Carlito! Carlito, Carlito! Deven! CORT! ANDRETA! E n Santa ей! Uncle Catherine! All red dude, Carlito! CARNITO SEAVESUUUU Signор Speed very high! Altissimo! Nel cielo di topo! Fisca usato... E VICE GOOOOOOOL! GARDIZO 7-2-20! GARDIZO 7-2-20!